Buongiorno ragazzi, qui dal bar Vittoria oggi Giovanna ci delizierà con una nuova colazione. Allora, prendiamo un frutta e vai veloce, lo tagliamo, anzi lo taglia Giovanna, ecco qua, con la forbice in maniera orizzontale, lo versiamo nella posta ciotolina e ci mettiamo la Nutella! Nutella, ci pagherà la Nutella per far questa pubblicità, non ci darà un cazzo di niente, neanche una lira ci darà la Nutella, però se facciamo 10 minuti di visualizzazione la Nutella ci pagherà, ma che bontà, ma che bontà, ma che bontà, buona domenica, una domenica energetica! Solo al schioschetto, buongiorno!